Saranno i padroni di casa degli Emirati Arabi, Stati Uniti ed Egitto le avversarie dell'Italia inserita nel girone A dei mondiali di beach soccer che si disputeranno a Dubai dal 15 al 24 febbraio 2024. Ai quarti accedono le prime due del raggruppamento. È quanto emerso dai sorteggi che si sono tenuti a Dubai. Si tratta della dodicesima edizione della competizione ridata e gli azzurri di Emiliano del Duca che hanno l'ossatura di giocatori varengini punta a recitare un ruolo importante pur dovendo fare conti con avversari che anche se sulla carta possono sembrare non temibili ma che possono creare ugualmente dei problemi se le partite non venissero affrontate con la giusta determinazione e concentrazione. Dopo la conquista del titolo europeo per l'Italia si tratta di un'altra occasione per mettersi in mostra e le carte in regola ci sono tutte perché nel corso dell'europeo il cammino è sempre stato in crescendo con risultati sicuramente molto importanti. Adesso diversi di questi giocatori sono impegnati nel calcio a 11 nei rispettivi campionati a cui prendono parte ma con l'avvicinarsi del mondiale certamente il CT effettuerà qualche ritiro collegiale come avvenuto in passato per verificare la condizione del gruppo che si spera continui a regalare emozioni a tutti gli sportivi italiani.